Far partire i progetti del cambiamento delle nostre città dai cittadini, dalla cosiddetta società civile. Le elezioni amministrative di questi giorni, che si sono svolte in molte città italiane, hanno visto dei progetti che andavano oltre i partiti. Questo dato, due anni fa, è sorto a Rende, per la prima volta. Un movimento che ha detto anche ai partiti, possiamo fare un percorso assieme, ma voi non siete più partito, siete movimento. Perché? Perché dobbiamo coinvolgere il cittadino, non per la delega a cambiare, ma per essere insieme con lui e cambiare i volti della nostra città. Devo anche ricordare che il Comune di Rende versava in stato di predissesto finanziario. Il 30 giugno il Consiglio Comunale di Rende avanzerà la richiesta di uscita dal predissesto. Fiorenza Gonzales per la CNews24. Il 30 giugno il Consiglio Comunale di Rende avanzerà la richiesta di uscita dal predissosto.